Vediamo il comportamento del circuito RL parallelo al variare della frequenza. Abbiamo che l'impedenza del parallelo ha un'espressione che se calcoliamo i termini reale e immaginario ha questa forma. Se trasformiamo in modulo e fase troviamo un'espressione del modulo data da questa espressione RxL diviso radice quadrata R quadro PxL al quadrato e una fase, un angolo caratteristico dato dall'arco tangente di R fratto x con L. Cerchiamo di capire l'andamento al variare della frequenza del modulo e della fase dell'impedenza. Quindi rappresentiamo il circuito RL parallelo generico, quindi lo isoliamo, lo disegniamo nei suoi due componenti RL e andiamo a vedere il suo comportamento in quattro condizioni di funzionamento caratteristiche. Una frequenza uguale a 0 in cui la resistenza ovviamente non dipende dalla frequenza, rimane il proprio valore, l'induttanza, la cui riattanza a frequenza 0 uguale a 0, quindi la rappresentiamo con un cortocircuito di impedenza 0. Quindi in queste condizioni è chiaro che il parallelo si comporta complessivamente come un cortocircuito di tipo induttivo in cui tutta la corrente che arriva al ramo parallelo, poi nel circuito parallelo scorrerà nel ramo induttivo quello che presenta l'impedenza uguale a 0, mentre 0 sarà la corrente nel ramo resistivo, quindi il comportamento sarà prettamente, puramente di tipo induttivo. Quindi la tensione ai capi della corrente, voglio dire che scorre nella resistenza, sarà uguale a 0. In generale a frequenza piccola avremo la resistenza che mantiene il proprio valore e la riattanza che sarà comunque di un valore basso relativamente al fatto che la frequenza è piccola, quindi indichiamolo anche graficamente con un piccolo bipolo. Al crescere della frequenza invece la riattanza induttiva aumenterà di valore proporzionalmente alla frequenza, quindi al crescere la frequenza otterremo una grande riattanza induttiva, la rappresentiamo graficamente come un bipolo grande, cosa che ovviamente non ha molto senso in una rappresentazione schematica, ma qua ci aiuta a capire il fenomeno. All'aumentare della frequenza, con una frequenza che tende all'infinito, la riattanza dell'induttanza tenderà al valore infinito e quindi a comportarsi l'induttore come un circuito aperto. Quando la resistenza mantiene il suo valore, la riattanza diventa infinita, tutta la corrente che arriva al parallelo andrà ad attraversare il ramo resistivo R, mentre nel ramo induttivo la corrente sarà ovviamente zero, visto che la riattanza si comporta come un circuito aperto. Quindi in queste condizioni di funzionamento il parallelo diventa di tipo esclusivamente resistivo. Adesso andiamo a rappresentare l'andamento del modulo e della fase dell'impedenza al variare della frequenza. Questa è l'espressione del modulo, la rappresentiamo sul diagramma in ordinate, mentre in ascisse indichiamo la frequenza, in ordinate il modulo dell'impedenza. Questo abbiamo visto che a frequenza zero sarà uguale a zero il modulo dell'impedenza e all'aumentare della frequenza tende a annullarsi la componente reattiva e ad assumere un valore dell'impedenza pari alla sola componente resistiva R. Quindi il modulo dell'impedenza parte dal valore zero e aumenta fino a tendere al valore R all'aumentare della frequenza. La fase, al variare della frequenza, la rappresentiamo su un altro diagramma, in ascisse la frequenza in ordinate la fase dell'impedenza RL parallelo, avremo che a frequenza zero abbiamo visto che tutta la corrente scorre nel ramo di tipo induttivo, quindi la fase corrispondente sarà quella relativa a un'induttanza pura, anche se di valore zero, quindi la fase assume il valore 90 gradi, mentre all'aumentare della frequenza il parallelo tende ad assumere le sembianze di una resistenza pura e quindi anche la fase tende al valore zero. Quindi nel circuito abbiamo che la fase a frequenza zero sarà 90 gradi, all'aumentare della frequenza la fase, l'angolo caratteristico dell'impedenza, tende a ridursi fino al valore zero.